Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi scarpa Zodiac Tech uno scarpone d'alpinismo abbastanza a tutto fare di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della censione completa Iniziamo come al solito dalla suola di questi Zodiac Tech perché qui troviamo la classica Vibramont una suola che conosciamo perché è presente su tantissimi altri tipi di scarponi sempre ottima, dall'ottimo grip praticamente su quasi tutte le superfici molto durevole nel tempo, una caratteristica sempre apprezzata e in questo caso troviamo anche la tecnologia ABS che è data dai tasselli che sono stati utilizzati praticamente troviamo dei tasselli un pochino più morbidi in alcuni punti e un pochino più duri in altri che fanno sì che il tassello possa adattarsi molto bene al terreno su cui camminiamo anche se dovessimo utilizzare lo scarpone in delle posizioni non proprio naturali ecco che il tassello andando un pochino a deformarsi, andando un pochino a storcersi andrà comunque a garantirci un ottimo grip questo particolare aspetto l'ho veramente apprezzato soprattutto quando magari si va a fare dei sentieri particolarmente tecnici con magari tanta salita su rocce eccetera in cui capi a trovare magari degli appoggi che non sono proprio classici ed ecco che questo tipo di tecnologia lì ci aiuta veramente tanto col grip quindi da questo punto di vista sicuramente ottimo e poi è sempre ottimo l'aspetto che questo tipo di suolo si può completamente risuolare nel caso in cui si dovesse finire il battistrada parlando invece dell'intersuola di questi Zodiac Tech qui troviamo un'intersuola rigido veramente molto molto rigido cosa che non riuscirete per nulla a piegarlo ed ecco che già capiamo che è uno scarpone che sicuramente darà il meglio di sé sui terreni più tecnici è uno scarpone anche semiramponabile perché nella parte posteriore troviamo la tacca per ramponarlo devo dire che per quanto riguarda il rampone essendo rigido lavora molto molto bene il rampone non ha nessun problema non cade quindi davvero utilizzati quei ramponi molto bene un'intersuola però che diciamo che quando arriviamo a sera magari dopo aver fatto tante tante ore ecco che il piede sarà sicuramente un pochino stanco perché la sua rigidità non darà modo al piede di poter flettersi uno scarpone però che con questa rigidità molto alta farà sì che quando lavoriamo in punta anche grazie alla climbing zone riusciremo sempre a progredire molto molto bene passando alla parte superiore della tomaia iniziamo al puntale che è veramente super rigido cioè con questo scarpone potreste prendere a calcio una roccia e non sentirete nulla mi piace molto il fascione in gomma che corre 360 gradi attorno allo scarpone che va a proteggerlo sia dagli urti sia da eventuali strappi quindi ottimo sempre questo fascione in gomma la parte di tomaia poi è in classica in pelle per vanger che lavora sempre molto molto bene devo dire che questo scarpone magari è un pochino più termico rispetto che traspirante perché utilizzato in delle giornate veramente calde magari a bassa quota vi assicuro che suderete ma non è neanche il posto ideale dove utilizzarlo è una pelle sicuramente che magari tende un pochino più alla termicità rispetto alla traspirabilità e per quanto riguarda la fodera abbiamo una fodera classica in Gore-Tex che ci permetterà di poter attraversare i vari guadi che troviamo durante un trekking arrivando alla zona del tallone come vi dicevo nella parte bassa c'è l'inserto ramponabile un tallone veramente molto strutturato nella parte inferiore che pian piano che si sale si destruttura abbiamo un sistema health control che ci permette di andare a camminare anche nelle discese più impervie anche nelle discese più tecniche senza avere problemi di stabilità senza dover preoccuparci di storte o roba del genere devo dire che a questo punto di vista è un sistema fatto molto bene e mi piace nella parte superiore che troviamo una piccola ghettina proprio piccola parliamo di un paio di centimetri che però fa sì che se non utilizziamo questo scarpone su neve o in casi di detriti questi non andranno ad entrare all'interno dello scarpone devo dire studiata molto molto bene e poi non dà fastidio quando lo si utilizza quindi ghetta super approvata per quanto riguarda invece la parte di laccio e linguetta una linguetta molto classica svolge bene il proprio lavoro devo dire veramente classica per quanto riguarda invece la struttura dei lacci questa mi è piaciuta perché possiamo vedere la divisa in tre punti la parte inferiore è classica per stringere l'avampiede che arriva fino in punta quindi si riesce a chiudere veramente molto bene un passalaccio centrale col quale andare a serrare il collo del piede che diciamo che l'avrei preferito magari autobloccante cosa che non è però comunque si riesce a lavorare molto bene e infine i classici due passanti superiori per andare a chiudere la nostra caviglia quindi da questo punto di vista devo dire un'allacciatura veramente studiata e progettata molto bene questa allacciatura poi grazie anche a tutta la tomaia fa sì che il piede all'interno resti sempre saldo sempre fermo non ci sono i momenti in cui questo si muove devo dire che stretto bene questo scarpone calza veramente come una seconda pelle sul nostro piede per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede devo dire che troviamo un avampiede abbastanza normale con qualche anche millimetro in più in generale ho preso il mio classico numero di scarpa senza dover prendere una taglia o mezza taglia in più arriviamo dunque a capire a chi consiglio questo tipo di scarpone e dove ve lo consiglio beh diciamo che è uno scarpone abbastanza a tutto fare che lo si può utilizzare soprattutto su terreni tecnici alpinismo tutto quello che magari è roccia neve e via dicendo ve lo sconsiglio se state cercando uno scarpone da trekking con cui farci trekking molto semplici a bassa quota senza nulla di tecnico perché in quel caso diciamo che scarpa dei prodotti al proprio catalogo che vanno sicuramente meglio pensate che è uno scarpone talmente tecnico e polivalente che viene utilizzato molto spesso anche dal soccorso alpino per quanto riguarda invece a chi lo consiglio secondo me è l'ideale per un escursionista abbastanza esperto tecnico che va a fare delle escursioni belle toste su creste magari ascesi su 4000 anche i sentieri molto tecnici quindi devo dire sicuramente non pensato magari per chi è alle prime armi fa dei sentieri molto più semplici arriviamo dunque alle conclusioni in stando al prezzo perché questi nuovi Zodiac Tech vengono venduti a 320 euro sul sito di scarpa o l'idea si trova a qualcosa meno ve li consiglio sì sì perché mi ci sono trovato veramente molto bene un ottimo scarpone per tutto quello che è il mondo del tecnico delle ascese 4000 uno scarpone che sicuramente vi durerà a lungo nel tempo perché è veramente ha dei materiali ottimi uno scarpone che poi non pesa neanche tanto perché si parla di 680 grammi nella taglia 42 uomo che dire secondo me è uno scarpone veramente ottimo e con tante funzionalità e detto ciao ragazzi una speranza sia stato esoramente esotivo anche per questa recensione vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima ciao